Valori di concentrazione inferiori alla sollea limite. I dati dei prelevi effettuati dall'ARPAC Campania sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno il 6 maggio scorso hanno di fatto riaperto il Salifornia. Le analisi sono state faxate stamani negli uffici dell'assessorato all'ambiente del comune di Salerno che aveva sollecitato le indagini. La notizia è arrivata stamani mentre era in corso la riunione di giunta a Palazzo di Città. L'assessore Caramanno parla del Santa Teresa ma anche della delicatissima questione delle spiagge libere del litorale salernitano con l'estate alle porte ai tempi del coronavirus. Probabile che il comune possa dare in gestione a terzi le spiagge attraverso un mando oppure un affidamento diretto. Il tempo stringe e Caramanno garantisce decisioni praticamente ad oras. Ovviamente la consegna dei dati ci ha fatto preoccupare anche perché insomma erano in un momento immediatamente precedente dell'estate. Non lasciamo perdere che tipo di estate sarà. Però voglio dire c'eravamo e abbiamo dovuto commissionare nuovamente dei dati perché era necessario capire. Di la verità eravamo tutti quanti ottimisti perché non c'erano motivi importanti per preoccuparsi. Però voglio dire aver campionato la spiaggia in quattro luoghi diversi, aver verificato che i valori sono tutti quanti sotto soglia va bene, ci rasserino ulteriormente. Io penso che sarà un'estate delicatissima un po' dovunque voglio dire, non solo a Salerno. È evidente che ci dobbiamo attrezzare e lo stiamo già facendo, ci stiamo lavorando insieme ai colleghi di giunta, ovviamente al sindaco, al capo staff e ai dirigenti di settore vari perché poi anche dal punto di vista della partecipazione organica, nonché politica, è una vicenda che abbraccia diversi settori del comune e anche diverse responsabilità. Stiamo lavorando perché poi come sapete le linee guida sono freschissime, dicono una serie di cose alle quali bisogna attenersi, allora è evidente che tu devi dare, stiamo cercando di trovare una soluzione organica che dia anche un senso di equilibrio tra il dettato normativo e la furibilità delle spiagge attuali. Stiamo verificando un attimo come fare, se gestirlo come se e come gestirlo attraverso terzi, insomma questa è la decisione che stiamo prendendo in questi giorni, facendo anche una valutazione complessiva anche dell'accessibilità alle spiagge, tutte, libere e non, per capire un po' i numeri che abbiamo, a che cosa ci portano, ma è una decisione che prenderemo in pochissimi giorni anche perché ormai ci siamo. Oltre che controlli ordinari che l'amministrazione può fare compatibilmente con le esigenze a 360 gradi perché è evidente che il controllo ufficiale della Polizia Municipale si inserisce in una serie di controlli che l'ente deve fare su tutto il territorio, non certamente soltanto rispetto alle spiagge. Dobbiamo vedere un attimo se controllarli noi autonomamente oppure verificare la possibilità di affidare a terzi una gestione un po' più ampia. Non lo so, in questo momento non lo so, stiamo facendo una valutazione anche di carattere proprio, a noi interessa l'accessibilità e la furibilità delle spiagge e la dobbiamo garantire e soprattutto la serenità anche dal punto di vista di quelle che sono le norme igienico-sanitarie. Quando lei dice sicurezza, io a quello mi riferisco, la sicurezza è tutta, perché bisogna rispettare le regole, bisogna rispettare le norme, bisogna stare tranquilli, bisogna anche far sì che tutti possano andare a mare, anche chi non si può permettere di pagare per andare a mare, perché questo è un rischio che vedo che altrove si comincia a correre, perché poi c'è anche il problema di garantire o non garantire i servizi, io ne sto sentendo tante, quindi parlo così, per sentito dire, voglio dire, se garantisce di sentire i servizi devi pagare, ma c'è anche chi il servizio non lo vuole e vuole andare gratis in spiaggia.